Gli imprenditori balneari di tutte le taglie, centinaia anche dall'Abruzzo, si raduneranno domani a Roma per un presidio contro le gare indiscriminate delle concessioni demaniali marittime. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre i rappresentanti nazionali delle associazioni di categoria saranno a colloquio con il Ministro del Turismo Garavaglia. Gli operatori del settore manifesteranno per chiedere la tutela dei loro diritti. Sottomira la riassegnazione delle concessioni tramite evidenze pubbliche dopo la decisione del Consiglio di Stato. Sarà una battaglia senza esclusioni di colpi, dice Riccardo Padovano, presidente Sib Confcommercio. Certo, noi abbiamo chiesto ai capi dei partiti, ai segretari dei partiti del governo di questo incontro di domani perché il 23 di dicembre c'era una manina morta che voleva inserire un emendamento per farci fuori a tutti quanti. Siccome questa cosa non sta nella nostra democrazia, perché ci siamo lasciati il 29 di novembre che avevamo detto che si sarebbero fatti dei tavoli con il Ministro Garavaglia per affrontare il tema della riforma delle concessioni dei maniali. Il giorno in cui si stava votando il bilancio c'era qualche personalità del governo ad inserire un emendamento non concordato. Quindi abbiamo chiesto da subito il tavolo, ci è stato dato il tavolo domani, pomeriggio, quindi incontreremo tutti i partiti che governano con Draghi per far sentire loro che questa attività così cattiva nei nostri confronti riteniamo che la cosa più giusta sia quella di fare subito il tavolo per rivendicare le questioni degli imprenditori. Noi se domani mattina dovremmo andare via vorremmo che il nostro valore aziendale ci venga riconosciuto. La tipicità della nostra attività ci venga riconosciuto, ci venga riconosciuto anche gli investimenti che noi abbiamo fatto. Quindi c'è un insieme di cose ma poi c'è da mettere in mano questa benedetta riforma del codice della navigazione per quanto riguarda il demagno turistico balneare. Queste cose se la politica non le vuole ascoltare domani mattina faremo la presenza ma sicuramente nel mese di gennaio organizzeremo una mega manifestazione all'interno del Palaeuro di Roma dove molto probabilmente si renderanno conto quante sono le imprese che rischiano di non aprire nel 2022. Solo in Abruzzo quante sono? Solo in Abruzzo ne siamo 650. Siamo la forza più importante numericamente del turismo regionale. Se noi lo mettiamo a confronto con le altre attività alberghiere, campeggio eccetera noi siamo 100 imprese in più degli alberghi.